Questa è la chiesa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, che esita il Vico Tre Re a Toledo. È meta di numerose coppie che hanno difficoltà ad avere figli. Infatti al primo piano della chiesa vi è una sedia considerata miracolosa. Adesso vedremo le spoglie della Santa, le sacre reliquie. Poi ci troviamo al primo piano, dove troviamo mobili e suppellettili della Santa. Ecco il materasso, nell'altra stanza vi è la sedia, la sedia miracolosa su cui ci si siede per avere delle grazie, per chiedere delle grazie.